23 maggio inizia l'oroscopo inizia l'almanacco di oggi ciao da mauro oggi san desiderio vescovo e vediamo i compleanni rubens barrichello il pilota di formula 1 è nato nel 1972 proprio oggi e poi una dj una conduttrice tv e radio andrea de logo nata il 23 maggio del 1982 la frase di oggi è firmata giovanni falcone dice occorre compiere fino in fondo il proprio dovere qualunque sia il sacrificio da sopportare costi quel che costi perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana ariete irrequietezza ed instabilità sono le parole chiave di questa giornata vivrete infatti con la sensazione che tutto ciò che desiderate raggiungere possa scivolarvi dalle mani ed essere così irrimediabilmente perduto non siate troppo pessimisti toro il ritmo della vostra sessualità di solito piuttosto acceso sembra un pochino affievolirsi vi manca l'entusiasmo ma soprattutto la fiducia nelle vostre risorse non criticatevi troppo aspramente gemelli invece di piangervi addosso modificate il vostro operato oltre che il vostro atteggiamento scoprirete che non c'è nulla di tanto terribile nel problema nato quest'oggi e quindi lo risolverete ben presto serata da trascorrere romanticamente a due cancro se vivete un rapporto di coppia il partner dovrà subire da voi qualche attacco di possessività infatti la sua esuberanza potrebbe infastidirvi e provocarvi paura di perdere il suo amore discutetene apertamente anche perché il problema non si pone leone non continuate con quell'atteggiamento dispotico o i vostri colleghi cercheranno di allontanarsi da voi isolandovi per i single potrebbero presentarsi in serata buone possibilità di incontrare l'anima gemella vergine vi sentite molto critici e selettivi non siete disposti a far entrare nessuno nella vostra vita almeno non oggi del resto meglio così non è il momento più adatto per fare iniziare una love story bilancia il nervosismo è la causa primaria dei vostri mali il corpo cioè è solo vittima di una conseguenza di natura psicologica mettetevi calmi ritrovate l'equilibrio migliore sfogatevi parlandone con un amico scorpione qualche imprevisto potrebbe portarvi a spese non programmate il settore finanziario si presenta comunque relativamente solido non abusate delle vostre energie perciò non tirate troppo tardi stasera sagittario una mente decisamente aperta ed elastica vi sosterrà in ogni impegno facendovi cogliere al volo anche la più piccola opportunità che trasformerete prontamente in un successo incontrando chi amate cercate di non essere troppo gelosi capricorno saprete sbrigarvela bene di fronte ad un problema dell'ultima ora senza dover chiedere consiglio o aiuto a chi che sia anzi saranno gli altri vista la vostra lucidità mentale ad interpellarvi per aiutarli a risolvere i loro problemi acquario se avete a lungo rimandato un compito piuttosto noioso oggi non potrete proprio fare a meno di risolverlo armatevi di pazienza virtù che vi sarà molto utile anche in famiglia per sedare stasera una controversia pesci vorreste fidarvi di quella persona con tutte le vostre forze ma una vocina dentro di voi vi sconsiglia una risa totale ascoltatela dice il vero serata insolita con persone bizzarre e molto stimolanti grazie a tutti grazie a tutti